Educare le giovani generazioni ad un consumo consapevole significa portare bambini e ragazzi a riflettere sulla provenienza dei prodotti, sull'uso del denaro, sul valore del lavoro e sull'importanza di preservare il pianeta nel tempo. Con 10.000 percorsi e animazioni offerti gratuitamente ogni anno alle scuole di ogni ordine e grado, in circa 800 comuni d'Italia, 222.000 bambini e ragazzi coinvolti, 11.000 insegnanti e 10.000 classi. Coopr contribuisce alla formazione delle nuove generazioni al fianco delle famiglie e degli insegnanti. Comprendere il reale valore delle cose aiuta a diventare sin da piccoli consumatori più attenti, cioè cittadini più responsabili. Perché essere una cooperativa di consumatori significa anche educare al consumo consapevole.